Il confcommercio che invece ha presentato la sua indagine su usura e fenomeni illegali nella giornata nazionale Legalità ci piace e avverte l'usura è percepita in aumento da un esercente su quattro e oltre ad essere una tragedia dice il ministro dell'interno Piantedosi, questo è un fenomeno che alimenta la criminalità organizzata. Iana Gagliarti L'appuntamento con l'indagine di confcommercio su usura e fenomeni illegali arriva al suo decennale ed è l'occasione per fare un punto della situazione adesso ma anche un raffronto col passato che, ed è questa la buona notizia, racconta di un trend in miglioramento malgrado le dimensioni della crisi post-covid per esempio rispetto al 26% di esercenti che nel 2018 percepivano un forte allarme sui livelli di sicurezza nel 2022 siamo passati al 10,3% ma è pur sempre un dato importante peraltro come tutti gli altri più accentuato al sud il costo dell'illegalità è di 24 miliardi sul fatturato, dice il presidente di confcommercio Sangalli presentando la giornata legalità ci piace, di fatto si mettono a rischio 270 mila posti di lavoro Anche per questo, quando chiediamo moratorie fiscali e creditizie non chiediamo salvagenti per le imprese ma strumenti che possono essere decisivi per non appigliarsi altrove Per gli imprenditori, a parte furti, rapine, taccheggio, c'è anche il peso di abusivismo e contraffazione e non è piccolo, ma è l'usura per esercenti e commercianti la vera bestia nera fenomeno percepito in aumento da un imprenditore su quattro e con 31 mila piccole aziende a rischio, avverte Confcommercio, che fra i dati segnala come il 30% degli imprenditori non saprebbe cosa fare e a chi rivolgersi il ministro dell'interno Piantedosi chiarisce E' un fenomeno molto negativo perché chiaramente si alimenta dei soldi della criminalità organizzata questo vuol dire che al di là del dramma, della tragedia che già vediamo che già di per sé basterebbe, insomma, delle persone che poi subiscono questo fenomeno ecco, la cosa molto grave è che si alimenta un circolo vizioso cioè soldi illeciti, impieghi fatti in questo modo, proventi enormi, distruzioni di elementi dell'economia legale distruzione della vita delle persone Per questo bisogna lavorare anche per aumentare la fiducia, in effetti già in crescita nella rete fatta da forza dell'ordine e associazioni di categoria perché nessuno si senta più solo Iana Gagliardi, Sky TG24